oh 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 javelin rack 8 javelin rack 8 javelin rack azzo una stella il solito 2 per cento di possibilità beh meglio del 0,5 delle armi precedenti belli essi token ma magari ce li teniamo in tasca che dite maccheroni ben ritrovati e ben ritrovati sul mio canale questo è sempre meccarena e io sono sempre bota un breve video un breve video derby event viene segnalato guarda manco farlo apposta non ho cliccato nulla strano perché questo gioco pop up ne apre pochi un nuovo derby event che dura una settimana sei giorni per la precisione ovvero ormai il nostro metro di misura temporale e la settimana di meccarena i sei giorni mi riferisco ovviamente alla durata del torneo bene 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 tanti token tanti token tanti token che non useremo tanti token che non compreremo tanti token che non useremo a cosa servono eccolo qua nuovissimo evento fresco di mattinata javelin rock 8 figo attesissimo una merda no scherzo non è una merda però ragazzi occhio occhio che questo come tutti create rush come tutti gli eventi dove a estrazione te lo regalano è una sola un inculata non so come si dica dalle vostre parti una truffa ragazzi questo parte da una stella da una stella poi vi tocca livellarlo e a livellarlo lo andrete a pagare di più alla fine che non aspettare che venga messo nell'inventario e che lo compriate per capirci qui coi crediti o con gli coins vediamo subito armi disponibili no no ovviamente ovviamente non è ancora tra le armi disponibili ma come sempre lo presentano sempre prima in questi eventi fuffa non spendete non dico un euro neanche un singolo token ragazzi i token che non utilizzate da questi create rush da questi corsa la cassa non mi ricordo come li chiamano in italiano vengono commutati in crediti e in a coin e vengono pagati anche molto bene fino a poco tempo fa ogni token di questo tipo qua per capirci questi con la essa a centro schermo ogni token non utilizzato veniva pagato 250 crediti e tipo mi sembra 20 no di più scusate e non mi ricordo in crediti gratuiti quanto l'anno appena l'anno appena e 50.000 ecco 50.000 crediti gratuiti l'hanno appena abbassato da poco io nell'evento precedente sono stato stupido due token li ho usati perché di distinto è venuto da cliccare soprattutto il primo gratuito ha detto vabbè c'è il missive rack 12 proviamo a prenderlo poi mi sono accorto subito dopo ma che cazzo sto facendo è a livello basic non lo voglio a livello basic deve partire 5 stelle se no poi mi costa di più comunque io per il create rush precedente che si è appena concluso avevo due token avanzati mi sono stati commutati in 200 crediti e 80 mila 200 e coin e 80 mila crediti prima era di più prima scusate non 250 prima era 150 crediti a token mi sembra andate a rivederlo l'avevo già pubblicata questa questa cosa questo trick di risparmiare i token ovviamente è un argomento ricorrente perché un errore molto molto comune occhio 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 non non fatevi abbindolare non tanto e non solo per le percentuali ridicole attenzione qui abbiamo bene il 2 per cento di possibilità di sbloccare quest'arma ovviamente perché un'arma rara non è un'arma prototipo perché le altre armi nei create rush event erano allo 0,5 per cento di possibilità e non sto dicendo che il 2 per cento sia tanto anzi non ne vale la pena non ne vale la pena anche perché dicevo al di là della percentuale ridicola che è una presa per il culo quest'arma fa cagare al livello 1 non sto dicendo che faccia cagare l'arma in assoluto fa cagare a livello 1 poi dovete livellarla e per livellarla uno dovete trovare le carte ed è comunque un'arma rara per carità rara non è leggendaria non è epica non è sto cazzo ma comunque sia eh spenderete alla fine più crediti che non a eh riceverla dall'inventario dalla barra dell'xp quando cavolo verrà giunta dove verrà giunta apro una piccola parentesi jevening rack 8 una delle armi più attese da mesi dedicherò loro un video perché io li ho visti in azione purtroppo io non sono nel programma beta tester ne ho fatto richiesta ma al momento non mi hanno ancora risposto l'ho appena fatto richiesta io non li posso ancora provare ma li ho visti li ho visti in azione ovviamente sui test server non sono così forti come ci potremmo aspettare potremmo pensare in generale che siano dei fratelli maggiori dei jevening rack 6 in tutto e per tutto non è così non è così perché hanno un missile solo anziché tre e questa cosa ragazzi non sembra ma cambia tutto cambia cambia tutto ma non ve ne parlerò adesso ve ne parlerò in un video dedicato con oggi voglio chiudere semplicemente dicendovi non partecipate non sprecate token su questo evento perché l'arma verrà poi rilasciata gratuitamente o comunque in crediti che andrete comunque a pagare di meno che non a spendere spendere qua sopra sia per provare a trovarla che non è per nulla scontata che il 2 per cento sia che per andare poi ad upgradearla ad un livello decente poi come vi ho già detto i token inutilizzati vengono convertiti in a coins e nulla nulla vale quanto gli coins in questo gioco quindi portate pazienza se vi posso dare un consiglio è liberi di fare del vostro tempo e dei vostri soldi ciò che più va grada ma se mi ascoltate anche in questo caso come tutti gli event crate rush ignorateli ignorateli portate pazienza tenetevi i token in saccoccia che tra sei giorni verranno puff commutati infelicissimi e i coins e anche crediti gratuiti in grossa quantità peraltro e con questo è tutto signore e signori per oggi chiudo così vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale dai datemi un po di supporto signori e signore attivate le notifiche lasciate un commento e cliccate sul pollicione come se fosse il click per shottare l'ultimo nemico all'ultimo secondo sul 10 pari in una sfida di torneo gl hf ciao maccheroni